Abbiamo più volte accennato alla crisi del III secolo. Abbiamo detto che Roma vide il suo appoggio durante il II secolo, ma già alla fine di questo II secolo l'impero iniziò a mostrare segni di cedimento, segni di debolezza legati alla peste, legati alla difesa dei confini, legati all'economia. E abbiamo, proprio nell'ultima puntata, parlato soprattutto della dinastia dei Severi, che pur all'interno di questa crisi cercò di arginare la situazione, rafforzò molto l'esercito e tutto sommato ottenne, almeno in certi casi, delle buone vittorie militari che misero in un certo senso la polvere sotto al tappeto, nascosero i problemi più evidenti di Roma. Ma i problemi ormai c'erano ed erano destinati a scoppiare. In effetti, dopo la fine della dinastia dei Severi, si aprì una fase anche relativamente lunga di quasi anarchia, di grande instabilità politica economica, sociale per l'impero, che appunto va solitamente sotto il nome di crisi del III secolo, perché lì effettivamente l'impero mostrò grossi, grossi segni di crisi, di debolezza, di cedimento. Le cose non tornavano più. Ci sarebbe stata poi un'altra fase di risistemazione parziale di questo impero, ma ormai dopo già era passato. La grande gloria di Roma iniziava ad essere cosa del passato e all'età dell'oro, come disse qualche cronachista dell'epoca, iniziava a sostituirsi l'età della ruggine e del ferro. E oggi vedremo perché, o meglio inizieremo a vedere perché, dopo la sigla andiamo a cominciare. Con solo un caffè nella solita tazza con la scritta andiamo a cominciare che mi hanno regalato i miei studenti in omaggio alla mia frase d'apertura di ogni video, come ci sono i soliti spettatori non paganti, il sottoporino Tostoi, Batman, D'Andrea, il mosto peroso, il cuscino che si intravede poco, perché ormai è mezzo caduto, ma c'è. C'è anche quest'altro mosticciatolo qua e poi ci sono io. Io mi chiamo Romano Ferretti, sono un insegnante di storia e filosofia, insegno nel liceo scientifico di Rovigo e da quasi tre anni, praticamente mancano un paio di mesi, ma poi festeggiamo i tre anni di attività, su questo canale realizzo praticamente ogni giorno video spiegazioni di storia, di filosofia, di educazione civica, ci sono anche i podcast, ci sono anche gli approfondimenti che ripercorrono il programma di storia e di filosofia che si fa al liceo, molte cose che si fanno anche all'università e poi approfondimenti, curiosità, per chiunque voglia ripassare, scoprire, studiare queste discipline. Il tono è quello di una lezione proprio da liceo barra università, quindi abbastanza corposa, però prendendo appunti, appoggiandosi a qualche libro si può facilmente seguire, si possono preparare esami e quant'altro. Il video di oggi rientra nella serie di video dedicati alla storia romana ne abbiamo dedicati parecchi ormai, anche se non è completa, perché ho iniziato già quasi alla fine dell'età repubblicana in inizio d'età imperiale, quindi c'è tutta la fase precedente ancora da fare, ma prima o poi la facciamo però intanto stiamo parlando in realtà di crisi dell'impero, l'impero che era assorto con Ottaviano Augusto che sotto la forma inizialmente del Principato abbiamo detto, con grande forza, con grande prestigio con grandissime vittorie militari, con espansione, con un impero particolarmente gestito in maniera particolare ma ben retto, poi con alterne vicende perché abbiamo visto alternarsi imperatori molto capaci ad altri più invisi al Senato, invisi alle guardie pretoriane o al popolo, insomma di tutto e di più però fino al secondo secolo abbiamo detto, fino sostanzialmente agli anni 90 del 100 la situazione era stata tutto sommato rosea nonostante a volte qualche imperatore che la cronaca e la storia dell'epoca ci descrive come pazzo per carità ci furono anche quelli o come sanguinario ci furono sicuramente anche quelli nonostante queste vicissitudini un po' particolari Roma era prosperata l'economia funzionava, i popoli assoggettati venivano grossomoro integrati, a volte anche con forme violente ma venivano integrati nell'impero e quindi l'impero romano era diventato un territorio enorme che andava dalla Britannia, vabbè, alla Spagna, alla Nord Africa fino al Medio Oriente anche abbastanza esteso questo Medio Oriente tutto il bacino era Mediterraneo e oltre era sotto il controllo di Romani un controllo molto saldo i primi segni di crisi erano venuti fuori all'epoca di Marco Aurelio abbiamo detto e in descrizione vi metto il link a quel video dove avevamo già iniziato a vedere questi aspetti elementi di crisi legati soprattutto all'epoca a due fattori il primo fattore la peste, le epidemie, il problema proprio di salute e quindi anche, avevamo già anticipato allora, un problema demografico in prospettiva perché queste epidemie colpirono durissimamente la popolazione dell'impero e portarono a un vero e proprio shock direi anche demografico una crisi demografica che poi si sarebbe ripercorsa nei decenni successivi e questo è il primo elemento il secondo elemento, la nuova inedita difficoltà a mantenere saldi i confini nel senso che le tribù germaniche, barbare, a cui abbiamo dedicato un video apposito in descrizione vi lo metto che si affacciavano, premevano soprattutto su confine del Reno e del Danubio erano più agguerrite di prima, più agguerrite di quanto non fossero mai state e riuscivano a mettere per la prima volta da secoli in difficoltà i romani questi due elementi che già c'erano abbastanza evidenti e forti all'epoca di Marco Aurelio continuarono ad esserci anche negli anni successivi ma come vi ho detto la dinastia dei Severi a partire da Settimio Severo e poi i suoi eredi anche se con anche lì alterne fortune riuscirono a mettere, dicevo prima, la polvere sotto il tappeto cioè con un grande rafforzamento dell'esercito con alcune campagne anche vittoriose Settimio era stato protagonista di campagne vittoriose erano incinti a mascherare un po' i problemi a rimandare il momento in cui sarebbe dovuto fare i conti con questi problemi e però prima o poi questi problemi sarebbero rimersi non erano stati veramente risolti erano stati solo accantonati messi da parte davanti ad altre questioni ora, chiusa la parentesi perché alla fine un quarantennio di dinastia dei Severi che abbiamo visto l'altra volta in descrizione trovate il link a metà quasi del terzo secolo scoppia fragorosamente questa crisi che era stata già sotterranea già presente sotto traccia in precedenza scoppia, me ne era forte e già i contemporanei si rendono conto di una crisi si rendono conto di qualcosa che non va più come prima non è caso, quell'espressione che vi ho citato nella premessa dall'età dell'oro si è passata all'età della ruggine del ferro ecco, un'espressione che deriva da Cassio Dione uno storico proprio di questa fase della fase dei Severi fu lui a coniarla proprio perché anche lui si rese conto che l'età dell'oro di Marco Aurelio di chi l'aveva preceduto Adriano, Antonino Pio, eccetera era terminata e adesso le cose erano molto più arrugginite di prima come questa espressione ci lascia capire i segnali di questa crisi erano parecchi e oggi li vedremo, inizieremo a vederli perché poi probabilmente dedicherò un paio di video alla questione per entrare meglio nel dettaglio oggi parleremo soprattutto della parte politica e militare di questa crisi prossima volta parleremo della parte economica e sociale di questa crisi però i segni erano già evidenti, dicevo in primo luogo, appunto, visto che parliamo di esercito la difesa dei confini era difficilissima sempre più difficile, ormai non dico impossibile ma davvero, davvero estremamente complicata i barbari, lo vedremo, si erano rafforzati migliorati nelle loro tecniche nelle loro tattiche e iniziavano a entrare e fare un po' quasi quello che volevano almeno in certe zone del confine cosa che rende poroso il confine rende difficile la difesa dell'impero a un certo punto fa addirittura temere per Roma poi più avanti nel tempo vedremo che anche Roma verrà attaccata insomma, la solidità militare di Roma inizia a non essere più così forte come un tempo e questo sicuramente è una cosa che fa abbastanza impressione nei commentatori dell'epoca nei romani dell'epoca che erano abituati a tutt'altro tenore fino a pochi anni prima un secondo elemento di debolezza l'abbiamo già citato è il perturare di queste malattie di queste epidemie e quindi una crisi demografica che si fa particolarmente pesante perché quando capite c'è un'epidemia che continua per anni e anni e anni magari sotto traccia magari in zone diverse dell'impero questo provoca soprattutto in Europa che non era poi così tanto popolosa all'epoca un problema di figli di problemi di braccia che possono lavorare i campi e quindi anche di partire all'abbandono delle campagne e poi legato anche a motivi economico e sociali che vedremo chiaramente se le campagne vengono in parte svuotate da braccia da lavoratori vuol dire avere meno approvvigionamenti vuol dire avere meno cibo e tutta una serie di problemi a catena e a cascata che indeboliscono la struttura economica e produttiva dell'impero quindi sicuramente anche questo è un elemento importante quindi crisi demografica ovviamente e poi il terzo elemento di cui parliamo oggi se fino a qualche anno prima e poi anche in parte con i severi certi problemi dell'impero sono stati mascherati grazie alle grandi vittorie militari adesso le vittorie militari non ci sono più sostanzialmente cosa accadeva nei decenni precedenti che quando l'impero o quando qualche imperatore attraversava dei momenti di crisi una buona campagna militare risolveva questa crisi perché? perché intanto una vittoria militare dava prestigio rafforzava anche il consenso nei confronti dell'imperatore ma poi soprattutto quando si conquistava una nuova terra generalmente la si saccheggiava si depredavano le ricchezze delle grandi capitali abbiamo visto proprio coi parti la volta scorsa e le ricchezze che si portavano a Roma venivano usate per finanziare distribuzioni alimentari per finanziare opere pubbliche insomma per tutta una serie di cose che ridavano fiato all'economia all'apparato romano ora però nuove conquiste militari non ce ne sono più anche perché ormai sono impossibili Roma si è stesa fino alla sua massima estensione oltre a queste estensioni ci sono nemici che ormai sono sempre più agguerriti contro cui Roma fa fatica davvero fa fatica ad averla meglio e quindi non ci sono più grandi conquiste quindi vuol dire non ci sono più grandi bottini e quindi vuol dire non ci sono più improvvise entrate economiche di monili, oro materiali preziosi eccetera da poter utilizzare per mettere una pezza al bilancio statale per mettere appunto una pezza ad altri problemi sociali tutti questi elementi portano già ripeto i contemporanei ad accorgersi della crisi che però attenzione non è una crisi uniformemente diffusa su tutto il territorio imperiale cioè l'impero è grande ma non dappertutto si sente in ugual misura il peso di questa crisi questa crisi è particolarmente forte ad esempio nella penisola italica lì sì lì non si era abituati a partire la crisi invece la crisi arriva è forte nell'area europea soprattutto le zone vicine ai confini dove i barbari premono e dove saccheggiano e dove portano scompiglio eccetera è molto meno forte anzi forse quasi assente nell'area invece nordafricana nel nordafrica in realtà questa fase la fase della crisi del terzo secolo è una fase di tutto sommato prosperità economica perché? perché i ricchi proprietari e agricoltori della zona in questi anni fanno grandi affari soprattutto col commercio dell'olio del quale c'era grande richiesta a Roma e lì non ci sono i barbari che attaccano sia lontani dal guazzapuglio del reno del Danubio ma anche del Medio Oriente dove i parti iniziano a premere sia abbastanza tranquilli isolati lontani dagli sconquassi dell'Europa e lì si prospera abbastanza bene quindi per dire che è una crisi sì importante molto forte molto sentita ma non sentita da tutti non dappertutto il problema più grosso però non l'abbiamo in realtà ancora citato o meglio non per forza il più grosso ma quello più evidente il problema più evidente fu quello della mancanza di figure solide al potere abbiamo detto che fino a Marco Aurelio ci sono stati imperatori anche di un certo rilevo ho già citato Alderiano Antonino Pio lo stesso Marco Aurelio personaggi di grande caratura non solo voglio dire politica anche intellettuale culturale dopodiché c'è stata quella fase di passaggio con i severi che erano stati uomini forti per lo più almeno settimio sicuramente uomini provenienti dall'esercito capi militari forti magari non così bravi dal punto di vista economico ma con un certo legame stretto con l'esercito adesso dopo la fine della lina di Severi dopo la morte di Alessandro Severo per un cinquantennio c'è una vera e propria anarchia militare così viene spesso ricordata dai libri cioè una fase che dura circa cinquant'anni in realtà 49 per essere esatti dal 235 l'anno della morte di Alessandro Severo al 284 quindi 49 anni in cui si succedono sul sogno imperiale sulla potere imperiale ben 24 diversi imperatori cioè 24 imperatori in 49 anni vi rendete conto che è in media uno ogni due anni poi in realtà qualcuno sta di più qualcuno sta di meno e questo senza contare tutti i numerosi usurpatori cioè personaggi che si proclamano o imperatori o si mettono alla guida di una legione tendendo di acquisire il potere cioè sono 50 anni circa mezzo secolo di grande anarchia di guerre civili continue senza sosta praticamente se non brevissime in cui chiunque tenta di prendere il potere e anche quando lo raggiunge lo tiene per poco tempo per poi essere sconfitto dal rivale per poi essere scalzato dal proprio esercito per poi magari morire per circostanze anche fortuite però per un modo o per l'altro e faremo presto oggi una carrellata di alcuni di questi imperatori non li vediamo tutti perché sono troppi ma alcuni li citiamo non riescono a mantenere un potere stabile non si crea una nuova dinastia non si riesce a creare una stabilità politica per cui un certo imperatore o comunque una certa famiglia riesce a stare in sella alla guida di questo impero che ormai è diventato un dominato abbiamo detto però un dominato estremamente fragile proprio perché chi riesce a salire al potere lo fa per pochissimo tempo questo ha un effetto evidentissimo ovviamente instabilità e soprattutto guerre civili continue vuol dire che l'esercito romano più che saldarsi legarsi rafforzarsi per affrontare meglio il nemico esterno cioè i barbari che premono ai confini o i parti da un'altra parte più che unirsi si divide al suo interno quando l'esercito lotta o reparti le giorni dell'esercito lottano tra loro ovviamente questo le rende più deboli gli attacchi esterni quindi il confine diventa debole come vi ho detto i barbari fanno in certe zone quello che vogliono anche perché già l'esercito romano ha qualche difficoltà già la popolazione romana è in crisi demografiche quindi meno braccia da mandare nell'esercito eccetera sicuramente ma poi anche perché l'esercito è frustrato è stancato è decimato da lotte intestine e questo non può che giocare a favore dei barbari ovviamente oltre che creare una grande instabilità non solo l'esercito che viene usato in questo modo si indebolisce e poi bisogna anche dire questo è debole in parte anche perché appunto la crisi demografica ha portato gli imperatori l'avevamo già visto in parte con i severi a far entrare nelle truppe dell'esercito anche intanto persone provenienti dalle zone di maggior confine soprattutto l'Illiria e la Pannonia per interesse quindi la zona dell'attuale Ungheria dell'Europa dell'Est Balcani eccetera ma poi anche soprattutto perfino soldati provenienti dalle zone barbare cioè dei barbari che vengono inglobati nell'esercito questo aveva dato un po' di linfa all'esercito perché se si aspettava di mettere solo gli italici e i romani campacavallo perché ormai italici e romani che potevano partire per l'esercito potevano lasciare le terre ce ne erano pochi proprio per questa moria per questo calo demografico e quindi c'era bisogno di forze fresche e forse queste zone di confine potevano fornire forze fresche ma questi nuovi soldati spesso non avevano lo stesso legame di prima con Roma con la romanità è vero che la cittadinanza abbiamo appena detto l'altra volta è stata estesa però l'appartenenza a Roma la difesa di un impero percepito come il proprio impero non era così tanto diffusa tra queste popolazioni non solo soprattutto quando vengono arrurati i barbari i barbari che si trovano a lottare pagati ovviamente stipendiati per difendere il territorio dell'impero romano non hanno nessun legame col territorio stesso pertanto quando la paga tarda ad arrivare o quando per mille motivi la paga non è ritenuta sufficiente non è affatto raro che le truppe piene di questi barbari poi si rivalgano in un certo senso sul territorio cioè sono chiamati a difendere una certa regione dai i nemici che stanno lì fuori ma se non arriva la paga loro saccheggiano la regione che dovrebbero difendere perché tanto non sono i loro confratelli non sono i loro parenti non sono i loro concittadini quelli che stavano lì sono comunque degli stranieri è come se fossero forse esagerato chiamarle truppe mercenaie però c'è un meccanismo quasi di questo tipo per cui non c'è quel legame solido saldo che c'è col proprio territorio o con la propria cittadinanza quando la si difende questo chiaramente genera problemi perché vuol dire un confine rifeso peggio e vuol dire che la popolazione locale che vive vicino ai confini già patisce gli attacchi dei nemici ma poi patisce anche gli attacchi degli amici non è più finita ovviamente questo non fa altro che peggiorare una situazione che è già difficile che è già caotica vi ho detto le terre coltivate sono sempre meno se poi queste terre vengono anche devastate o saccheggiate a volte dai nemici ma a volte anche dagli amici questo non fa altro che farà passare dalla padena nella balazza insomma non ci vuole molto per capirlo questo va poi a sommarsi al fatto come vi anticipavo prima che gli stessi barbari iniziano ad essere più agguerriti di prima non solo più agguerriti ma anche meglio organizzati di prima rispetto agli attacchi dei barbari dei secoli precedenti le battaglie che sono di Augusto e di altri che pure avevano avuto i loro bei grattacapi contro i popoli germanici adesso le truppe barbare germaniche intendo soprattutto gli alamanni intendo soprattutto i franchi intendo soprattutto i goti soprattutto queste tre tribù si uniscono si federano fanno una sorta di federazione tra le varie tribù di franchi degli alamanni dei goti in modo da avere una forza molto più unita molto più coesa meno sparpagliata meno appunto così un nemico molto sparso molto disorganizzato aveva dovuto affrontare Roma prima adesso invece un nemico che sta organizzando sta cementando la sua unione in maniera anche strutturata il che vuol dire che questo nemico si presenta contro i romani meglio organizzato più coeso più difficile da sconfiggere ovviamente quindi da un lato è Roma che si indebolisce per vari motivi anche motivi ripeto demografici alla fine e poi per alcune scelte sbagliate e poi soprattutto per le guerre civili dall'alto però è anche il nemico che si rafforza e che sa approfittare della momentanea debolezza di Roma questo per dire del confine ripeto sul reno e sul Danubio quindi il confine con l'attuale Germania per intenderci con le popolazioni germaniche ma non è che nel Medio Oriente le cose andassero poi tanto meglio anzi i più grossi problemi forse vengono dal Medio Oriente perché perché in questa fase in Persia sale al potere una nuova dinastia che era la dinastia dei Sasanidi una dinastia particolarmente forte e soprattutto particolarmente agguerrita che fin dai primi esponenti di questa dinastia si pone come obiettivo di conquistare territori a occidente rispetto alla Persia quindi occidente rispetto alla Persia vuol dire il Medio Oriente il Medio Oriente che in quel momento era appunto in mano romana e questa dinastia Sasanide è molto agguerrita molto in crescita molto arrembante e desiderosa di approfittare delle debolezze di Roma che ormai sono evidenti in effetti nel giro di un quindicennio e un ventennio i persiani iniziano a ottenere grandissime vittorie contro Roma il primo imperatore della dinastia di Sasanide che prova a fare questa operazione si chiama Arta Cerse I così viene ricordato di solito e già all'inizio del terzo secolo si inizia a muovere contro Roma e a ottenere qualche parziale vittoria ma meglio ancora fa suo figlio e poi sarà il principale trionfatore si chiama Sapore I questo nuovo imperatore Sasanide costringe ben due imperatori romani nell'arco di un quindicennio a prostarsi in un certo senso ai suoi piedi a essere addirittura umiliati da lui quindi segno di un impero romano che è davvero in grandissima difficoltà i due imperatori romani coinvolti sono il primo Filippo Larabo che citeremo tra poco ancora che è costretto a firmare una pace appunto ripeto davvero umiliante per Roma contro i Sasanidi il secondo va ancora peggio per lui perché mentre Filippo firma la pace ma poi morirà ma per altre faccende al di là delle lotte con i persiani la seconda pace è quella con Valeriano Valeriano addirittura appare anche se qui le fonti non sono sempre concordi del tutto che si è stato addirittura catturato in battaglia dai persiani e o ucciso brutalmente davanti appunto a a Sapore Primo oppure addirittura ha venduto come schiavo e costretto a lavorare come schiavo insomma un'umiliazione molto feroce molto forte e un'umiliazione che comporta la perdita sostanzialmente della Siria che viene occupata da questi persiani che si dimostrano agguerriti e capaci di strappare a Roma dei territori non è più solo Roma che non riesce a conquistare addirittura inizia a perdere territori segno di una certa debolezza ormai conclamata ma diciamo che la debolezza dipende da queste crisi dipende da queste guardie civili dipende anche da questa veloce successione di diversi imperatori iniziamo a vederli questi imperatori visto che qualcuno aveva già citato Filippo l'Arabo Valeriano dopo la morte di Alessandro Severo il primo che salì al potere fu il primo di un certo rilevo fu Massimino il Trace questo personaggio è un personaggio particolare perché è il primo imperatore che non è di classe senatoria cioè addirittura non solo non è di classe senatoria ma non è pure cittadino romano quando nasce imperatore Barbero viene chiamato così anche proprio perché proveniva dalla traccia non solo un imperatore barbero anche un imperatore soldato perché proveniva dalle fila dell'esercito quindi non dalla classe equestre non dalla classe senatoria ma proprio dall'esercito che pure si era molto rafforzato abbiamo detto proprio sotto i severi segno di un esercito che certo è frenato dalle lotte intestine è frenato dalle difficoltà nel controllo dei confini ma è pur sempre il baricentro ormai di questo impero è l'esercito che incide sulla scelta di chi diventa imperatore in questo caso appunto questo massimino tra l'altro fu il primo imperatore oltre che essere appunto di estazione militare oltre che essere proveniente dalla traccia primo imperatore a non recarsi mai a Roma perché il suo impero è talmente breve sostanzialmente il suo dominio è talmente breve tre anni dal 235 al 238 che non fa neppure in tempo ad arrivare a Roma quindi non farà mai il suo ingresso nella capitale sarà sempre impegnato in battaglie e in guerre lungo i confini tra l'altro massimino un uomo dell'esercito ottiene alcune vittorie importanti bisogna dirlo l'esercito lo sceglie perché sembra un uomo capace dopo che gli ultimi severi vi ricordate anche processus alessandro avevano dimostrato molti segni di debolezza massimino invece sembra molto capace ottiene alcune importanti vittorie sul reno e sul danubio proprio contro le truppe barbare però si inimica tutti gli altri mentre l'esercito gli è molto fedele tutto il resto della società romana gli è nemica perché per mantenere l'esercito e per mantenerlo forte alza le tasse come avevano fatto già i severi contro la popolazione sempre per favorire in questo modo l'esercito e soprattutto questo innalzamento forte delle tasse gli inimica sia il senato che poi non lo può sopportare perché appunto proviene da tutta altra classe sia però anche le elite cittadine cioè le classi agiate delle città che sono scontenti di vedersi ancora aumentare le tasse ulteriormente dopo già i tentativi degli anni precedenti questo fa sì che si creino tutta una serie di congiure contro di lui di usurpatori che tentano di strappare gli poteri ed effettivamente nel 238 una di queste tentativi va a buon fine Massimino viene fatto da parte viene ucciso dal suo stesso esercito gli succede poco dopo Filippo Larbo in realtà qualche anno dopo governata al 244 249 dopo una fase di veloci passaggi in mano questo Filippo Larbo ve l'ho già citato perché viene prima costretto dai persiani a questa pace umiliante appunto da parte di Sapore Primo poi deve lottare soprattutto contro i gotti che hanno passato il Danubio in quel confine che Massimino è riuscito bene o male a controllare ma che Filippo non riesce a controllare e appunto i gotti riescono a invadere l'attuale Bulgaria la Messia così veniva chiamata all'epoca mettendolo in grande difficoltà tant'è vero che anche lui molto rapidamente viene fatto da parte viene messo da parte dal suo stesso esercito che gli preferisce un usurpatore che ha provato a strappare gli poteri che ci riesce che si chiama Messio Tecio Messio Tecio in realtà pochissimo governò appena a due anni del 249 al 251 d.C. ma si fece comunque notare perché in questi due anni varò una pesantissima persecuzione contro vari culti ma in particolare contro i cristiani fu la prima grande persecuzione proprio voluta varata in grande stile da Roma contro questo gruppo che ormai era abbastanza consistente a Roma in realtà Messio Tecio arrivò a perseguitare i romani tramite una norma principalmente che era una nuova norma che senciva l'obbligo di tutti i sudditi di prestare sacrifici agli dèi e all'imperatore ovviamente i cristiani per rimanere fedeli alla loro religione che proibiva di adorare altre divinità si rifiutarono in gran parte di farlo non tutti per la verità alcuni anche accettarono di fare il sacrificio diciamo per aver salvato la vita vennero chiamati i cosiddetti lapsi cioè i caduti ma c'è anche da dire che molti invece preferirono il martirio quindi ci fu proprio il martirio di molti di questi cristiani proprio perché questa norma varata da Massio Decio prevedeva anche la pena di morte in caso non la si rispettasse Decio poi muore in battaglia in battaglia proprio contro i goti quindi non non lascia troppo il segno se non per questa vicenda dei cristiani a Decio che muore appunto nel 251 si susseguono alcuni altri imperatori nel 53 sale a potere valeriano che rimane a potere per qualche anno fino al 260 quindi 7 anni ma verrà sconfitto delle persone l'abbiamo citato prima da quello che appunto Sapore Primo aveva umiliato schiavizzato e probabilmente anche ucciso quindi grande umiliazione anche da questo punto di vista però ecco a Valeriano successe già nel 260 subito un altro imperatore che si è abiturato qualche anno cioè Gallieno in carica fino al 268 chiaramente stiamo citando solo gli imperatori che rimangono al potere per un po' di tempo in più quelli che allungano un po' la media perché quelli che rimangono pochi mesi non vale neppure troppo la pena citarli questo Gallieno fu un liberatore piuttosto debole perché sotto il suo impero si fece tra virgolette sfuggire quasi dalle mani due territori molto importanti che guadagnarono una sostanziale autonomia per qualche tempo poi sarebbero stati riconquistati dopo lo vediamo però due territori anche importanti uno è la Gallia quindi territorio l'attuale Francia per intenderci più o meno quindi territorio ampio e importante e l'altro è la zona di Palmira di Siria quindi sempre zona siriana dove nacquero due regni sostanzialmente autonomi parzialmente autonomi contro il volere però ovviamente di Roma segno della debolezza di questo Gallieno Gallieno viene ucciso dai suoi ufficiali dopo una congiura segno sempre di questa debolezza e a lui succede subito Claudio il Gotico Claudio II detto il Gotico che governa appena due anni da 268 al 270 viene chiamato il Gotico perché in realtà questo Claudio ottiene alcune importanti vittorie proprio prima contro gli Alamanni sul lago di Garda perché gli Alamanni erano riusciti ad arrivare fino al lago di Garda poi contro i Goti quindi in realtà questo Claudio II si dimostra più capace di altri dal punto di vista militare i Goti tra l'altro erano riusciti ad entrare nei Balcani ed erano riusciti addirittura ad occupare Atene prima che Claudio riesca a regolarli quindi insomma un pericolo quello barbarico ormai consistente importante che occupa anche città di un certo peso all'interno dell'impero comunque Claudio era un imperatore di origine illidica anche lui quindi proveniva anche lui dalla periferia dell'impero ma morì anche lui dopo qualche anno questa volta però di peste non tanto appunto per congiure o per debolezze o per lotte intestine ma purtroppo a volte c'era anche questo motivo ovviamente quindi anche quando un imperatore sembrava un po' più capace degli altri in grado forse di mantenere la barra rita per qualche anno a volte anche cause fortuite come la malattia potevano toglierlo di mezzo però c'è da dire questo dopo la morte di Claudio che avviene nel 270 e quindi questo brevissimo intermezzo sale al potere un imperatore che dura anche lui pochi anni cinque anni ma che riesce a mettere a posto alcune cose si chiama Aureliano Aureliano è l'ultimo imperatore che citiamo oggi per chiudere questa pagina sull'anarchia militare perché anche lui non governò molto a lungo in realtà dal 270 al 275 quindi appena cinque anni ma in questi cinque anni Aureliano riuscì a mettere a segno alcune cose importanti intanto affrontò il problema dei barbari che ormai penetravano abbastanza spesso fino anche alla penura padana e quindi minacciando di fatto Roma perché chiaramente la penura padana superati gli appennini c'è Roma ecco lui riuscì a mettere a segno alcuni colpi importanti contro i barbari e però anche per prevenire eventuali sconfinamenti decide anche di costruire una nuova cinta muraria attorno a Roma le cosiddette mura aureliane ancora oggi piuttosto celebri proprio perché ormai Roma non era più così intoccabile come una volta era più vista come una città dove nessuno sarebbe arrivato forse qualcuno poteva non dico avvicinarci ma minacciarla da lontano quindi era meglio prevenire che curare avrebbe da dire quindi si occupò per carità anche appunto dei barbari ma mise anche a segno alcune mosse difensive importanti in più aureliano importante perché militarmente riuscì a ricondurre all'obbedienza quelle province che abbiamo detto si erano in parte ribellate che avevano un certo autonomia cioè la gallia e appunto questa zona della siria la gallia venne riconquistata abbastanza facilmente e ricondotta all'interno dell'impero ma qualcosa del genere avvenne anche per il regno di palmira quella città appunto in siria dove nel 272 aureliano sconfisse zenobia la regina di palmira e per punizione tutta la città di palmira venne completamente distrutta e devastata e tutte le ricchezze della città vennero portate a roma come bottino di guerra quindi da quel punto di vista lì da un punto di vista militare aureliano si dimostrò piuttosto capace sistemate queste questioni sistemate la questione della gallia e sistemate la questione della siria provò anche a sistemare le questioni interne perché finora questi imperatori che dovevano sempre bloccare le invasioni bloccare le crisi bloccare le guerre avevano trascurato anche gli affari interni invece aureliano provò ad affrontare gli affari interni soprattutto dal punto di vista economico queste situazioni economiche ne parleremo meglio la prossima volta ma anticipiamo questo su aureliano c'era stata una grandissima inflazione l'abbiamo già citata anche le volte scorse già con i severi questa inflazione era continuata ad aumentare tanto è vero che in certe zone si era arrivati a forme di baratto addirittura ormai il denaro non contava quasi più nulla aureliano tentò di arginare questo fenomeno di mettere una pezza a questo fenomeno varando una nuova moneta più pregiata che doveva servire a così rafforzare gli scambi migliorare l'economia in più nazionalizzò diremmo oggi cioè mise alle dipendenze dirette dello Stato alcuni settori strategici della produzione della manifattura romana in particolare i cantieri navali gli armatori navali ma queste mosse che tutto sommato potevano avere un senso anzi erano importanti forse anche necessarie davanti a questa situazione così caotica in realtà non ottennero l'effetto sperato perché da quello che sappiamo ad esempio la riforma monetaria non ebbe grande successo l'inflazione continuò a segnare Roma anche immediatamente dopo il varo di questa riforma segno che ormai la situazione era forse un po' sfuggita di mano e l'economia continuò ad essere estremamente fragile in grandissima difficoltà a parte che poi Aureliano come vi ho detto governò a pochi anni non fece forse in tempo a cercare di dare un segno più incisivo su questi problemi l'unico settore della politica interna in cui però Aureliano sicuramente ebbe successo fu quello del rafforzamento del suo culto personale nel senso che Aureliano non direi introdusse perché c'era già ma rafforzò molto il culto del cosiddetto Sol Invictus il Sole Invictus che era un culto del Dio Sole di origine orientale proprio siriana sostanziliaca sostanzialmente si confoneva molto spesso col culto di Mitra di cui abbiamo anche parlato qualche puntata fa in descrizione vi metto il link ma in realtà prendeva dentro una serie di culti vai legati di origine orientale e li condensava in questo Dio Sole che poi finiva per identificarsi con l'imperatore quindi il culto del Sol Invictus diventava il culto dell'imperatore stesso ormai deificato sostanzialmente e questo serviva a rafforzare il potere di ormai un imperatore come abbiamo detto l'altra volta non era più Princeps ma era Dominus era più il primo dei senatori ma era il dominatore il padrone dell'impero pur nonostante un impero così fragile così malmesso una carità imperiale che è sempre soggetta a veloci cadute a perdite di potere immediate ecco questo direi a quello che c'era da dire oggi per fare questa veloce carrellata sui imperatori principali di questa fase di anarchia militare e vedere i problemi appunto dei confini delle terre perse terre riprese truppe barbariche e questioni varie prossima volta come vi ho già anticipato parleremo di economia e di società perché ovviamente questa crisi del terzo secolo fu una crisi vissuta su più livelli qualcosa abbiamo già accennato oggi ma bisogna riprenderlo e sficialarlo meglio quindi ne parleremo per oggi però ci fermiamo qui vi ricordo che in descrizione trovate i titoli che sono comparsi qui sotto mentre spiegavo trovate anche i link agli altri video che ho citato e trovate poi tutti i modi per rimanere in contatto con il canale cioè la nostra settimana è gratuita anche i social network se li seguite e volete seguirmi anche lì e poi soprattutto i modi per sostenere il progetto cioè se vi piace quello che faccio vi piacciono i video che realizzo se volete darmi una mano a farli sempre meglio ci sono varie modalità potete comprare libri che servono a voi e che ci danno un piccolissimo contributo anche a noi potete comprare videocorsi molto interessanti molto utili per voi e ci danno un piccolissimo contributo anche a noi oppure meglio ancora donazioni oppure ancora l'abbonamento che è una modalità che offre youtube in cambio di questo abbonamento sono pochi euro al mese decidete voi poi la taglia di quanti euro volete donare ogni mese avete in cambio dei vantaggi quindi video in anteprima dirette esclusive dispense di filosofia qualcosa del genere dateci un'occhiata c'è tutto spiegato in descrizione ho finito ci vediamo presto per altri video di storia romana ma poi anche più in generale di storia di filosofia di educazione civica ciao alla prossima tutto sin tv se non sapete ma vi stiamo riprendendo gattini senti che fuso e io quando finisco il video ma guarda vi fate la telecamera poi cambia di schifo la telecamera pagare di chifo di scopo e corretta